Non mi interessa parlare di quelli che sono gli obiettivi degli altri, penso che siano obiettivi che vanno al di là di una salvezza tranquilla, però noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, del nostro atteggiamento, contro qualsiasi squadra giochiamo con grande rispetto, però allo stesso tempo soprattutto giochiamo in casa nostra e l'obiettivo è quello di vincere la partita, con rispetto comunque che affrontiamo una signora squadra sicuramente anche a livello di nome, ben allenata, da quando c'è Giuliano comunque stanno facendo bene, hanno diverse soluzioni anche loro e vedremo cosa faranno domani, ma noi ci siamo preparati per fare una grande partita, cercando di riportare e di aiutare perché poi dipende da noi di farci trascinare dalla nostra gente, abbiamo visto quanto conta avere il pubblico caldo che sicuramente ti dà una mano in più, abbiamo visto sulla nostra pelle sia noi che i 65 tifosi che sono venuti alla Spezia, cosa vuol dire avere insomma quel muro umano dietro la porta del portiere che è la loro curva piuttosto che l'atteggiamento di tutto lo stadio, devo dire che anche qua non è mai mancato in questi anni, chiaramente il rapporto più che alla storia, il rapporto alla popolazione tutta, magari a Spezia sono più numerosi, però qua nel nostro piccolo l'atteggiamento del pubblico, aiutato chiaramente anche dalla prestazione dei ragazzi perché se no da solo non si scala, devo dire che può dare una grande mano, non basta quello, però fa la differenza anche quello alla lunga.